Il matrimonio non è benedicibile perché non si benedice un contratto. Se lo si benedice si fa di questo contratto perdutamente umano il calco divino di un'istituzione terrena imperfetta, transeunte e perfettibile. Non si benedicono neanche gli sposi 50-50, si benedice questo improbabile essere comune che gli sposi, direi ogni persona che si ami alla luce di una promessa e di un accordo, intrattengono fra loro. E' il terzo uomo la coppia. Non sono più io pur essendo io, non sono solo io pur essendo solo io e la benedizione sta nel trait d'union. E' lì che c'è bisogno di Dio. La benedizione cristiana è un triangolo nel senso non del vaudeville e del gossip e convocare Dio in presenza dell'uomo perché cara te mia sposa, caro te mio sposo, da soli non ce la facciamo. Chiamiamo Dio a essere presente nella nostra vita. Questo ci dà un savoir faire e anche un saper essere che nei corsi e nei ricorsi della storia, nelle separazioni di cui è ricca la storia protestante, perché abbiamo esordito con il divorzio dalla Chiesa Cattolica e Apostolica Romana ma abbiamo mantenuto l'allenamento divorziando la forma, per così dire, continuando un po' a divorziare, a separarci al nostro interno eppure a tenere un legame. Che cosa si potrebbe dire della Chiesa Cattolica? Si potrebbe dire che le famiglie sono tante e la casa è una sola, San Pietro per semplificare. Che cosa si potrebbe dire in ambito protestante? Che le case sono diverse ma la famiglia è una sola. C'è una grande familiarità. È importante il termine familiarità rispetto alla famiglia, c'è anche in un sinodo, questo non solo impedisce ma consente anche di litigare. E dove c'è familiarità ci sono spazi e tempi non per un compromesso ma per una non penalizzazione del diverso. Non abbiamo bisogno della copia conforme, non deteniamo un archetipo e quindi come nelle impronte digitali non chiediamo a ciascuno, nubendo, nubenda, di due sessi, di un sesso, di mettere il ditino per verificare che l'impronta coincida allo stesso modo. Possiamo permetterci una diversità che non è dispersione e che non è condanna. Possiamo nella vita decostruita e destrutturata che è diventata la nostra pensare una ricomposizione che non è un compromesso, che richiede arte, c'è la parola composizione, e una bella cucina che metta speranza e che non dica tu, 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 no buono, tu buono. Magari il buono, il matrimonio con figli è una prigione, è un inferno. Usciamo dal buono e dal cattivo, proviamo a vivere con uno sguardo di benevolenza, che è lo sguardo del Vangelo, le situazioni di vita che non sempre ci è dato scegliere, che incontriamo. Investiamo ciò che incontriamo di un impulso che non sia un impulso giudicante. L'Evangelo, se non è questo, ma che cosa sarà mai? Bene, come avete visto, la riflessione è estremamente coinvolgente, interessante, perché non si ferma appunto sul terreno sociale e sociologico, ma produce anche una riflessione teologica che ha una sua radice biblica. Comunque, noi abbiamo già parlato tanto da questa parte, adesso io inviterei, se desiderate, i giornalisti presenti a porre domande ai nostri due ospiti sul tema appunto delle tante diverse famiglie e della loro interpretazione e della loro realtà. Prego, presentatevi, bisogna venire qui, nome e cognome. Marco Rostan, riforma Eco delle Valle Valdese. Una domanda da giornalista, ma è anche un po' personale, ed è questa. In un momento di crisi forte, di precarietà, come sappiamo, si torna a parlare e a sperimentare forme di convivenza, come ci sono i gruppi di acquisto solidale, ci sono dei tentativi di co-housing. Allora, nella storia della Chiesa Valdese ci sono alcuni esempi e molti tentativi di convivenze, diciamo, famiglie allargate. Penso ai gruppi residenti di centri come Agape, come Riesi e delle comuni, io ne ho fatto parte di due comuni, una a Roma, tre famiglie, e una a Cinisello Balsamo, che gestiona scuola popolare, soprattutto oltre ad altre attività, formata da una ventina di persone, famiglie, singoli, bambini, eccetera. Allora, la mia domanda, per farla breve, non voglio parlare di queste esperienze, dico soltanto che queste convivenze non erano intese come alcune comuni post-68, specialmente in Germania, superamento della famiglia borghese, tutte queste storie, quelle balle lì, ma erano dei tentativi diversi. Tra l'altro non erano delle comuni introverse, ma avevano un'attività comune oltre al lavoro di ciascuno. Allora, mi domando come mai nella Chiesa Valdese queste esperienze sono state sempre poco, si è riflettuto poco, se ne è parlato poco, e mi domando se in qualche forma sarebbero delle esperienze di cui si possa ancora proporre, non proporre le stesse comuni, ma insomma si possa essere presenti nella discussione sulle nuove forme di famiglia, anche alla luce di questa esperienza. Se ci sono altre domande le raccogliamo, così magari i nostri ospiti rispondono. Prego, si avvicini pure al microfono. Donatella Coralova, Avvenire. C'è una domanda che vorrei farvi con un senso molto vivo di fraternità e di affetto che io ho per i protestanti, ma una domanda che dà anche voce a una preoccupazione che ho nel cuore. Ecco, io ricordo il senso molto vivo di entusiasmo e di gioia che c'era stato quando si era giunti al documento sui matrimoni misti che è stato approvato in forma ufficiale sia dalla Chiesa Cattolica che dalla Chiesa Valdese e Metodiste. Avevo visto proprio tutte le emozioni, in modo particolare, che aveva vissuto Monsignor Giacchetti, che era stato uno dei membri della Chiesa Cattolica, che avevano seguito tutto l'iter per raggiungere a questo documento. Quindi, momenti di grande gioia, di entusiasmo, quando poi si è arrivati ad avere finalmente questo testo comune. Allora, io mi chiedo questo. Se verrà fatto nel giro di alcuni anni, adesso voi lavorate appunto per stendere un documento che in qualche modo sostituirà il documento del 71, che viene definito obsoleto, e che sarà un testo, immagino, che avrà valore di regolamento anche per la vostra Chiesa. Allora io mi chiedo, ci saranno, se ci saranno, ecco, delle conseguenze sul testo, sull'intesa che già erano state raggiunte, per quello che riguardava appunto nella fattispecie la questione dei matrimoni interconfessionali? E poi al di là di questo aspetto specifico della domanda appunto su questo specifico documento, io mi chiedo poi in generale appunto, ecco, quali saranno anche le conseguenze per quello che riguarda i rapporti ecumenici con la Chiesa Cattolica. Ovviamente sono questioni grosse che creavano, già hanno creato anche un po' delle difficoltà, non soltanto con la Chiesa Cattolica ma poi anche con altre Chiese. E poi un'altra domanda, ecco, così molto fraternamente, ecco, vuoi anche permettermi di dire, all'interno della vostra Chiesa c'è una, sono presenti delle sfumature diverse, anche di prese di posizioni su queste questioni. Non sarebbe bello in una conferenza stampa come questa che ci fosse anche magari la presenza di una persona che ha delle posizioni totalmente diverse rispetto alle vostre, perché comunque all'interno della vostra Chiesa c'è un dibattito che è molto vivo. Magari potrebbe esserci qui presente un pastore africano o comunque una persona che ha posizioni diverse. Questo avrebbe fatto vedere la ricchezza appunto di atteggiamenti che c'è all'interno della vostra Chiesa e penso anche avrebbe sottolineato una volta di più quel rispetto per le minoranze che sono presenti su determinate questioni anche all'interno di una stessa Chiesa. Grazie.